Provi filtri parte 2 Vi ricordo che ogni giorno ci saranno 3 parti dei provi filtri E ci saranno solo 3 giorni E poi non ci sarà più Vabbè buona visione Allora Voto 0 che non cambia niente Dice provalo con un tuo amico Ma io non ho nessun amico Quindi Mi dice di sorridere Non cambia niente Voto 3 Questo vuoto 3 Perché ho gli occhi rosa Ma non cambia niente Solo gli occhi E un po' mi aggiunge queste rughe Però Voto 3 Un pizzicino carino Voto 0 Dice di sorridere Ma non cambia niente Sì Gli ho fatto fare un test Tutto il giorno Adesso poi faccio fare un po' di matematica Ok Cambia tutto Allora tu vieni a mangiare Tutto sono messo così Ma Va bene Ciao Ma voto 6 non è Vieni a mangiare Vieni a mangiare Questo è il tuo amico Questo è il tuo amico Questo è il tuo amico E vabbè raga Questo Voto 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 Se non è 0 ma è 1 Vieni a mangiare Vieni a mangiare Vieni a mangiare Vieni a mangiare Vieni a mangiare